Le risorse di carburante sono quasi del tutto esaurite in un prossimo futuro a seguito di una terza guerra mondiale, causando la fine della legge e dell'ordine. L'ex agente di polizia Max Rokatansky vaga per il deserto nella sua V8 Interceptor modificata. Il suo unico compagno è un cane e la sua unica arma è un fucile a canne mozze con poche munizioni. Max è inseguito da una banda di sciacalli barbarici guidati dal folle motociclista Weds. Al termine dell'inseguimento Max riesce a far schiantare le due macchine modificate di Weds e raccoglie il carburante dai loro serbatoi, mentre Weds batte in ritirata. In seguito Max trova un autogiro e lo ispeziona per prendere il carburante da esso, ma viene preso di mira dal Capitano Giro, il proprietario del velivolo, che però viene presto sottomesso da Max. Il pilota conduce Max alla fortezza della Tribù del Nord, eretta per proteggere una pompa petrolifera funzionante con annessa raffineria da sciacalli della strada che cercano di impossessarsene. Durante uno di questi scontri, un membro della Tribù del Nord viene salvato da Max. Il superstite fa un patto con Max, promettendogli un pieno di carburante se lo riporterà nella fortezza. L'uomo però muore poco dopo il loro ingresso e il leader della fortezza, Pappagallo, rinnega l'accordo dicendo che non è più valido, in quanto il sopravvissuto è morto. Poco dopo l'arrivo di Max, giunge alla fortezza un massiccio raggruppamento di predoni, tra i quali Weds. Il capobanda di questi barbari motorizzati, Lord Humongous, un energumeno sfregiato che indossa una maschera da hockey, tenta senza successo di convincere la Tribù a cedere la benzina, in cambio del permesso di attraversare la Valle della Morte per andarsene dalla desolazione delle terre perdute. Kid, un ragazzino selvaggio della Tribù, attacca i predoni con il suo boomerang metallico, riuscendo ad uccidere il compagno di Weds. Furioso, il motociclista vuole assediare subito la fortezza, ma Lord Humongous lo calma per poi allontanarsi. Max propone a Pappagallo una nuova offerta. Recupererà una motrice abbandonata che è in grado di trainare la cisterna che i membri della Tribù usano per immagazzinare il combustibile tratto dalla pompa, in cambio della libertà, della sua Interceptor e tutto il carburante che può portare con sé. La Tribù accetta, ma tengono la macchina di Max per garantire la sua collaborazione. Max esce dalla fortezza e, con l'aiuto del Capitano Giro e del suo mezzo volante, raggiunge il camion, lo rimette in funzione e lo conduce alla fortezza della Tribù del Nord. In questa occasione il clan di Humongous li attacca, ma Max e i membri della Tribù riescono a respingerli. La sera Humongous fa torturare a morte i difensori che avevano catturato. I difensori vogliono che Max venga con loro, ma Max opta di riavere la macchina, la ricompensa e andarsene per la propria strada. Tuttavia il suo tentativo di attraversare la valle della morte fallisce. Weds attacca Max e lo fa schiantare fuori strada, distruggendo l'Interceptor e ferendolo gravemente. I predoni uccidono il cane di Max e tentano di prendere il carburante dai serbatoi della Interceptor, ma così facendo innescano una trappola esplosiva che uccide alcuni degli aggressori. Max, moribondo, viene salvato dal Capitano Giro, che osservando da lontano il fumo della sua macchina capisce che non è riuscito a scappare e lo riconduce alla raffineria a bordo del suo elicottero. Con nessun altro mezzo di fuga e con la tribù pronta a fuggire, Max decide di prendere la guida del camion con la cisterna. I protagonisti abbandonano la fortezza con il camion pesantemente corazzato, sul quale Max è accompagnato da Kid e dagli altri membri della tribù che lo vogliono aiutare. Mentre gli abitanti fuggono in una carovana di camper e autobus per primi, i guerrieri di Lord Umungus si insidiano nella struttura petrolifera, che però i protagonisti fanno saltare in aria per impedire a Umungus di usarla per recuperare il carburante. Nell'inseguimento finale, Pappagallo e gli altri guerrieri della tribù muoiono difendendo la cisterna. Rimangono Max e Kid, inseguiti da Lord Umungus, mentre Weds riesce a salire di fronte al camion. Con una mossa astuta, Max fa una rapida inversione di marcia e Umungus si rende conto troppo tardi che sta andando dritto contro il camion. Lord Umungus e Weds muoiono nello scontro frontale, mentre il camion e la cisterna si rovesciano fuoristrada a causa del micidiale impatto. I predoni rimasti raggiungono la cisterna e scoprono che era piena di sabbia, quindi si allontanano sconfitti. Max e Kid riemergono dal camion di roccato e poco dopo il capitano Giro, precipitato durante il combattimento, li raggiunge a bordo del suo girocottero tramutato in auto. Tutto il carburante era in realtà tenuto nascosto nella carovana dei membri della tribù, che riescono finalmente ad uscire dalle terre perdute. Il narratore, che si rivela essere Kid anziano, spiega di essere diventato il nuovo capo della tribù del Nord, mentre Max è diventato una figura leggendaria, il guerriero della strada. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.